Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Sergio Resinovic, coinvolto in un misterioso legame con sua sorella Liliana Resinovic, non ha mai accettato la spiegazione apparentemente semplice del suicidio come motivo della sua scomparsa. Convinto che dietro la morte di Liliana si celino motivazioni più complesse, Sergio ha deciso di far sentire la sua voce. La sua lettera al questore di Trieste va oltre essere un documento formale. È una chiara protesta contro ciò che percepisce come conclusioni affrettate e poco ponderate riguardo al destino della sorella. Il percorso di Sergio non è stato agevole. La sua battaglia per la verità lo ha spinto a esaminare ogni dettaglio del caso di Liliana, mettendo in luce la fretta con cui le indagini sono state concluse dietro l'ombra di un presunto suicidio. Tuttavia, è stato un incontro inaspettato a rafforzare la determinazione di Sergio. Durante un dialogo privato, un investigatore gli ha mostrato delle immagini di un reperto potenzialmente legato a Liliana, alimentando ulteriormente la sua ricerca della verità che finora gli è stata negata. Secondo voi chi è stato il vero colpevole della morte della povera Liliana? Il marito Sebastiano Vicentin, l'amico speciale Claudio Sterpin oppure una terza persona? Lascia un commento sotto al video con la tua opinione su questo caso.